Sempre una staffetta partigiana, una voce significativa della cultura, della sinistra e in generale dei movimenti di solidarietà. Noi sulla nostra locandina abbiamo scritto, va bene, sono delle cose che si ripetono, però una cosa mi preme dirla, femminista questo e tante altre cose, e presenta oggi, si presenta a difesa sempre di una politica che fatica a mantenere responsabilità e onestà. Allora, io ho finito questa presentazione.